E adesso ci sarà il mio intervento riguardante il potere dei numeri. Torniamo alla cosa perché guardate che alla fine ci sbattete contro tutti, i numeri ci sbattete contro tutti. Io ci ho sbattuto all'inizio e fortunatamente l'ho bypassato come ostacolo, ma vediamo com'è importante. Allora, il controllo di gestione, innanzitutto questi sono i luoghi comuni che voglio sfatare completamente. Il controllo di gestione è solo per le multinazionali, a me non serve. Serve a tutti. Il controllo dei numeri serve a tutti, nella vita professionale e nella vita personale. Mettetevelo dentro in testa. Pago già il commercialista, non può pensare lui ai numeri? No! La risposta è no! Perché è un professionista? Perché tutti i professionisti sono sempre più oberati e perché i numeri riguardano noi. I numeri nostri della vita professionale, della vita privata riguardano noi. Dobbiamo decidere di prenderli in mano. Io non ci capisco niente, i numeri non fanno per me. Sapete che tasso di scolarità ho io? Terza media. Terza media. Quando ho capito che i numeri rappresentavano lo switch della mia vita, switch vuol dire cambiare, ci ho messo un attimo e vedremo adesso fra poco. È un dato di fatto che, ormai con una sequenza di imprenditori infiniti che sta seguendomi, la maggior parte degli imprenditori odia i numeri. Io vedo imprenditori che quando vedono la porta del controllo di gestione fanno così, si girano dall'altra parte. Perché hanno paura della pagella. Hanno paura di incontrare i numeri. Non li vogliono vedere. Li nascondono, addirittura li nascondono sotto il tappeto, li ignorano completamente. Perché si fanno le lucubrazioni loro, dei numeri loro. E credetemi che per me all'inizio è stato durissimo. Perché quando ho cominciato a studiare per un venditore, ex magazziniere, andare a fare quel lavoro di studio dei numeri è veramente stato un salto incredibile. Fino a quando non ho capito una cosa. Ricordatevi, fate lo screenshot. I numeri si trasformano in soldi. Sempre ricordatevi questo. Perché se non vi ricordate questo, non cambiate. Delegate ancora una volta gli altri numeri. Quando parlo di numeri, parlo di quel 20% di numeri, eh? Che vi fanno ottenere l'80% di risultati. Non sto parlando della fattura, dell'IVA, delle supercazzo le contabili amministrative. No, no, non sto parlando di quelle. Sto parlando dei grandi numeri. Sto parlando dei numeri significativi. Nei miei 40 anni da imprenditore ho affrontato molte situazioni in cui ho avuto successo solo grazie alla padronanza dei numeri. Scrivetevelo. Avrete successo solo grazie alla padronanza dei numeri. Punto. E non è solo la mia esperienza. È tutta l'esperienza di quelli che frequento. Che usualmente e normalmente fatturano di più di me. Da 100 milioni a 500, un miliardo e oltre. Tutti uguali. Chi ha puntato sui numeri, tutto ha trovato dei risultati straordinari. I numeri si trasformano in soldi sempre. Ancora una volta. Io mi ricordo che all'inizio non avessi fatto quei 3-4 anni dal 1988 al 1990, 91. Focus totale sui numeri. Non sarei l'imprenditore di oggi. Quelli sono stati i 3-4 anni più importanti della mia esistenza. E hanno governato i 60 attuali. Sì, è così, credetemi. Credetemi perché prima ero un bravo venditore, vendevo tutto. Bastava che mi dessi qualcosa e io convincevo chiunque. Ok? Ma quando ho cominciato a avere padronanza sui numeri sono passato ad un livello superiore. Sono passato in regia. Molte delle situazioni che ho già superato sono le stesse che prima o poi dovrete affrontare voi. Io le ho affrontate a 25 anni, da 25 a 28, a 29, ma mi ricordo che ho fatto 86, se conto anche gli workshop, 90 corsi in 3 anni, 3 anni e mezzo. 90, 90. Erano gli anni in cui facevo 7 su 7. Perché comunque un po' di vendite le facevo e poi dovevo comunque la sera, il sabato o la domenica, dedicarmi a questi corsi. La partita doppia, le tesorerie, i flussi di cassa, quelli che oggi trasmetto a voi. Ok? Dovete essere preparati anche voi. Voi, io se avessi avuto un Gasparotto che mi avesse detto le cose che sto dicendo oggi e domani a voi, avrei fatto per 10 e non avrei fatto determinati errori. Ecco perché l'imprenditore master è un cambiamento totale per voi. Per voi e per tutto quello che vi circonda. Tutto! Ho capito. Pensate ai livelli miei da dove attingo, quelli che frequento, la mia esperienza e tutti voi che mi seguite. Cioè, pensate un po', ripeto i tre anelli, quelli che frequento, quelli che mi seguono e i miei 40 anni. Quando tu passi un weekend con uno che ha 3 miliardi di patrimonio in azioni, beh tu capisci come ragiona uno, no? Capisci come, poi voglio dire, voi sapete che con l'arte della maieutica a me piace, no? Mi piace tirar fuori le situazioni e capire perché sono lì, imparo. Sei uno che è un mostro da questo punto di vista qua, perché non devo imparare? E quindi questo che vi dico adesso è il frutto dell'esperienza. Vediamo le mie esperienze e le situazioni. Il manager è buyout, 28 anni, grande voglia, grande volontà. Voglio fare l'operazione finanziaria. Sì, vuoi fare l'operazione finanziaria Mirko? Mi ricordo sempre, ma non abbiamo i soldi? Io e i miei tre colleghi che ha fatto l'NBO diciamo, ma non abbiamo i soldi? Che cazzo facciamo? Se non avessi avuto la cultura dell'operazione NBO, ve la semplifico. Come comprare l'azienda per la quale lavori? Con i soldi dei profitti della tua attività. Noi abbiamo fatto l'operazione così. Io non avevo soldi. Nessuno degli altri soci aveva soldi. Io sono partito da sotto zero, non zero. Questa è la realtà. Se non avessi avuto una cultura finanziaria del dire l'azienda nei prossimi cinque anni, perché io ho fatto in cinque anni l'NBO, dal 90 al 95, dall'88 al 90 ho studiato e dal 90 al 95 ho fatto l'NBO. Cinque anni con i profitti pagato tutto, rilevato il 100%. E storia! Non è che vi racconto che ero su un appartamento di 20 metri quadri che lavavo i piatti, tutte stronzate per attirare l'attenzione vostra. Vi racconto storia mia. C'è una roba diversa. Cioè io l'ho vissuta sta roba qua. Ho dovuto controllare i flussi di cassa. Ho dovuto pensare perché i flussi di cassa dovevano assolutamente sopportare il debito che era stato fatto con la famosa cassa di risparmio di Venezia, col dottor Delfino Secco, Fabio De Vicari e Paolo Cogo. Cioè capite quanto è importante i numeri. Se non avessi governato i numeri, sicuramente i miei soci allora mi sono venuti dietro. Sono stati convinti da me su questo. L'NBO mi ha cambiato la vita e ha cambiato la vita dei miei soci. Ha cambiato la nostra esistenza. Poi l'inizio di tutto, quindi all'inizio proprio prima di far l'NBO, il business plan presentato alla banca, anzi presentato prima chiesto a un sacco di banche e poi presentato alla banca, se non facevo vedere che da quel business plan venivano fuori quei soldi per comprare il 100%, col cazzo che mi davano i soldi. Quindi io mi sono passato, non so se mi spiego, dal copia commissione ai flussi finanziari. Dal copia commissione ai flussi finanziari. Vi posso garantire una cosa, non mi divertivo. Perché uno diceva, ma no Mirko, i numeri non mi divertono. I numeri comandano. I numeri comandano. Non è che ci sia tanto scampo da lì, eh? Se io non facevo quella roba lì, non compravamo l'azienda, l'azienda sarebbe stata venduta a una multinazionale francese con la quale era già stata firmata una lettera di intenti e io avrei creato la mia azienda con i miei colleghi, ma partivo da zero. E invece lì c'era già un'attività dal 76. Quindi i numeri sono molto importanti. Prestito obbligazionario convertibile. Dopo l'MBO c'erano degli altri colleghi che avremmo voluto coinvolgere come soci. L'abbiamo fatto. Cos'è il prestito obbligazionario convertibile? Beh, uno va a un capitale invece che investirlo in azioni e in altre cose, fa un investimento nel prestito obbligazionario aziendale, per un certo periodo, per il primo periodo, prende gli interessi, ma è convertibile. Tecnicamente è un POC, praticamente. Questa conversione poi c'è stata 90 su 100 di quelli che hanno sottoscritto il prestito e oggi sono anche loro nella compagine societaria.